Pagina YouTube di 19 luglio 1992, anche se cerchi semplicemente secondo me YouTube dovresti vedere me spettinato Dovrebbe... ci sto guardando anch'io Allora... dovrebbe... io in teoria adesso starei trasmettendo... ah io mi vedo Cioè se tu cerchi 19 luglio C'è una cosa che si chiama prova e premio a saldo, sono io in effetti Vabbè, io sto vedendo che mi vedo, però... quindi diciamo Lui di trasmissione funziona Ho bisogno però che... ok, quindi... ok Quindi però la questione a questo punto è, siccome questo è YouTube Sì, sì, sono io Allora, siccome questo è YouTube Ma la... aspetta che adesso mi sento la mia voce moltiplicata Mi confonde un attimo Spengo... ok Spengo un attimo il microfono Facciamo così Quindi da com, dammi un istante, così non mi confondo ю... Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.